La capitale si tinge di verde. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre la suggestiva cornice del Parco dei Daini di Villa Borghese ospiterà l'undicesima edizione della mostra Mercato, la conserva della neve, la quarta realizzata a Roma. Una mostra che dà particolare attenzione alla biodiversità vegetale, ha sottolineato Estella Marino, assessore capitolino all'ambiente. È una mostra che ormai si svolge da tre anni dentro Villa Borghese e ha come focus centrale, voi lo vedete, tutte le esposizioni di piante, di vivai, vivai che producono direttamente le piante e ha come elemento centrale la conservazione della biodiversità. Cioè si ritrovano tutta una serie di specie che spesso sono andate, andavano perse e che quindi dai vivai vengono invece di nuovo coltivate. Quindi c'è un elemento al di là della vivaiistica e delle piante, c'è un elemento in più culturale che è quello di proteggere e di rimettere in campo tutta la biodiversità che negli anni spesso si era persa perché c'è la tendenza a utilizzare alcune piante, magari non autoctone, e quindi dare prevalenza a certe piante che poi diventano monotematiche. Invece qui c'è proprio un'attenzione particolare alla biodiversità. 120 gli stand presenti, una decina in più rispetto all'edizione precedente. Gli amanti e collezionisti del Green potranno così parlare con vivaisti, artisti ed esperti del settore, godersi installazioni verdi, acquistare piante e semi e scoprire un po' di più di agricoltura e animali. Maria Cristina Leonardi, ideatrice e curatrice della mostra. Gli stand sono circa 120, ogni anno sono sempre di più, ce ne sono già direi 10-15 di più rispetto all'anno scorso, ma io faccio sempre una cenita molto severa, perché essendo questa una mostra a mercato sì, ma si basa sulla biodiversità vegetale, sono, diciamo, invito esclusivamente vivai che producono loro stessi le piante, intanto che collezionano una, diciamo, varietà di una stessa specie oppure una famiglia di piante, ma soprattutto che sono produttori delle stesse piante, che normalmente riproducono attraverso seme, ciò che fa sì che la pianta è molto più resistente, è molto più longeva, non vengono ovviamente forzate queste piante, quindi chi acquista, non solo acquista una pianta rara che non trova nei normali garden, ma soprattutto acquista una pianta che non gli muore, ecco, perché molto spesso le persone sono affascinate dalla bellezza di una pianta, poi dopo una settimana, un mese, gli muore dentro casa e non capiscono per quale motivo, ecco, in questo caso è difficile che ciò avvenga.